si deve avere il coraggio di mettere in campo uno scostamento di bilancio che il Movimento 5 Stelle chiede da mesi ma che il Governo finora non ha ritenuto di farlo. Questa attesa ragioneristica non ha dato i suoi frutti e non li darà. Voglio ricordare a Anpassan che lo spread in questo momento è quasi doppio dello spread che c'era durante il Governo Conte 2 ma noi speriamo che questa attesa finisca presto perché avrebbe il perdurare di questa impasse, il solo effetto di costare di più per il sistema Paese perché potrebbe far morire molte più aziende, si perderebbero più posti di lavoro e gli effetti della crisi sarebbero maggiori. Ricordo che durante la pandemia nel solo anno 2020 il Governo Conte 2 approvò 5 scostamenti di bilancio per complessivi 130 miliardi, risorse che hanno protetto il tessuto economico e hanno posto le basi affinché nell'anno successivo il PIL italiano segnasse l'incremento record del più 6,6% che fu il dato migliore in tutta Europa. L'effetto di quella crescita frutto di investimenti lungimiranti e coraggiosi e non frutto di calcoli di ragioneria sta influendo positivamente anche sul PIL di quest'anno con un effetto di trascendimento che lo stesso Ministro Franco ha quantificato in un 2,2% ne ha parlato durante il forum di Davos e quindi praticamente noi ora siamo a galla grazie agli interventi del Governo Conte 2. Oggi le necessità sono ancora maggiori di quelle del 2020 perché agli effetti della pandemia si stanno sommando quelli di una guerra di cui non si conosce la fine. È una situazione così difficile, così drammatica, non la si può affrontare con micro aiuti ma serve una terapia d'urto coraggiosa e ambiziosa. Se il Governo continuerà a ragionare con la mentalità del 2011 con l'austerity, con l'aiutino centellinato non usciremo bene da questa crisi, anzi ne usciremo malissimo esattamente come successe nel 2011 e negli anni seguenti e la storia dovrebbe insegnarci qualcosa ma noi siamo fiduciosi di convincere il Governo in tal senso e come Movimento 5 Stelle lo facciamo tutti i giorni.